Salve, buongiorno a tutti, iniziamo questo webinar sulla legge di bilancio, sono Veronica Nicota, il segretario generale del Lanci, vediamo che siete già in tanti collegati, quindi passiamo un po' rapidamente, faccio una premessa generale, lascerò la parola a Andrea Ferri e a chi seguirà, ho un'illustrazione dei contenuti principali della legge di bilancio, ovviamente le richieste che l'associazione si appresta a mandare al Senato in forma di emendamenti proprio nelle prossime ore, e un po' anche registrare da chi ritiene nelle modalità che conoscete, richiesta di informazioni, presentazioni di domande e quesiti, registrare anche dai comuni, da chi è collegato, la presenza di altre questioni o dubbi interpretativi, applicativi, in ordine non soltanto ovviamente al provvedimento annuale, provvedimento principale, ovviamente predisposto dal Parlamento e dal Governo, ma più in generale che ci sono aspetti tecnici che riguardano appunto la predisposizione dei bilanci. Come sapete ci muoviamo in un contesto difficile, complesso, lo è per il Paese e quindi lo è anche per i comuni. Si tratta di una fase che vede appunto il Governo e la maggioranza di Governo impegnata appunto a contenere al massimo i provvedimenti di spesa, alla luce ovviamente dei vincoli finanziari generali e dei vincoli che impone la partecipazione all'Unione Europea. Le richieste che le associazioni hanno fatto già dal mese di agosto attengono a quelli che sono gli aspetti critici principali che affliggono la vita finanziaria e contabile dei comuni, ovviamente risorse aggiuntive in vista di un aumento assai vertigitoso in particolare a partire dal 2025 degli effetti del target pereguativo e quindi abbiamo ribadito al Governo la richiesta di neutralizzare questi effetti, obiettivo che siamo riusciti a raggiungere a partire in particolare dal 2020 utilizzando il fondo crescente che sapete lancio e ottenuto di recupero di 560 milioni. Quindi l'ultima quota di questo capitolo di spesa verrà erogato nelle 2024 150 milioni, quindi la grande preoccupazione che abbiamo riguarda soprattutto l'annualità che parte dal 2025. Poi sapete che si è abbattuto nel 2023 e continuerà a nostro avviso anche per il 2024 l'effetto inflazionistico generale sui contratti di servizio, sui contratti di illuminazione, gas eccetera che ovviamente interessano la spesa dei comuni, su questo ovviamente siamo molto preoccupati perché non ci sono fondi a compensazione di questi effetti. Proprio stamattina vedevo un articolo del Sole 24 Ore che sulla base dell'analisi del 2023 registra un aumento che va su circa il 15-20% illuminazione e illuminazione e gas della spesa dei comuni, quindi conferma quello che noi abbiamo sempre detto in questi mesi. A questo si aggiunge l'incremento degli oneri contrattuali per i nuovi rinnovi che ci saranno nel 2024. Quindi un concorso di circostanze che sicuramente rende già molto complicata la gestione finanziaria a condizioni date, a risorsi date, come si dice, come dire a reddito fisso che interessa il comparto dei comuni perché sapete che di fatto la leva fiscale è pressoché inutilizzabile. Purtroppo, nonostante questo contesto, si aggiunge un ritorno di un intervento di riduzione di risorse che non vedevamo ormai da più di sette anni su tutta la pubblica amministrazione e quindi anche sui comuni che ovviamente è un elemento di ulteriore e grandissima preoccupazione che interessa le annualità 2003-2024-2028 che attiene appunto a 200 milioni per i comuni, 50 milioni per provincia e città metropolitane a cui si aggiunge un ulteriore taglio di 100 milioni sempre per i comuni e di 50 milioni per provincia e città metropolitane già previsto dal 2020 per la cosiddetta risparmio informatico da digitalizzazione della pubblica amministrazione quindi noi dobbiamo gestire allo Stato un taglio, una riduzione di risorse di 300 milioni per i comuni. Riteniamo che questo sia del tutto insostenibile, l'abbiamo detto il Governo, l'ha detto il Presidente dell'Anci anche in sede di Assemblea per cui stiamo lavorando per provare a veicolare alcune soluzioni tecniche che possano mitigare l'impatto di questa riduzione di risorse di 300 milioni per il comparto che si aggiunge ovviamente a tutti gli aumenti o effetti di altre azioni che vi ho citato prima. Questo un po' è il quadro macro che interessa il comparto dei comuni in ordine appunto alle grandezze finanziarie inerenti alla spesa poi come sapete ci sono altri aspetti che abbiamo posto o abbiamo posto un tema che riteniamo non sia più eludibile che attiene appunto ad una rivisitazione graduale, parziale nel tempo e nel medio periodo delle regole del fondo credito di dubbia esigibilità i comuni come al solito come anche su tanti altri versanti sono stati più dirigenti e hanno applicato integralmente siamo arrivati al 100% di accantonamento nel fondo di credito di dubbia esigibilità parliamo di un monte risorse bloccato enorme di circa 6 miliardi di euro che lasciamo ai saldi di finanza pubblica riteniamo che ora questa operazione vada come deve conoscere un salto di qualità perché tenere bloccati 6 miliardi senza guardare oltre senza traghettare oltre un processo di efficientamento della riscossione locale sia come dire miope a mio avviso non comporti un grande come dire miglioramento se esiste a fermi quindi la nostra proposta che abbiamo presentato e che ribadiremo anche al Parlamento è di accompagnare il fondo credito di esigibilità con delle norme, con delle regole che consentano di sbloccare una piccola percentuale del 10, 15, 20% finalizzata appunto e monitorata e finalizzata a consentire a quei comuni di rafforzare la propria capacità amministrativa relativamente all'attività di riscossione quindi dobbiamo ovviamente accompagnare a questo punto il lavoro di fatto definitivo e completo e esausivo che i comuni hanno fatto con un effettivo e reale miglioramento della capacità di riscossione dei comuni poi c'è il grande capitolo che conoscete, che molti di voi conoscono e che purtroppo si nutre sempre di più di altri antilocali, di altri comuni, dei comuni, delle pubbliche amministrazioni che sono in crisi finanziaria in dissesto e in predissesto. Su questo la legge di bilancio ci ha dato qualche risposta rispetto ad alcune questioni che abbiamo posto, ad esempio l'introduzione di un fondo di accompagnamento decennale per i comuni che hanno sottoscritto gli accordi con il governo e i comuni capoluogo di provincia cioè una, diciamo, un'estensione delle norme che hanno visto un processo appunto anche lì pattizio con il governo per le grandi città, sapete, Napoli, Torino, altre grandi città, Reggio Calabria, Palermo viene esteso ad altri comuni che hanno le medesime caratteristiche. Abbiamo un fondo piccino al nostro avviso di soli 30 milioni, ne avevamo chiesti 50 per i piccoli comuni, vedremo, andrà migliorata al nostro avviso ma miglioratano i criteri per la distribuzione di queste risorse e poi c'è un fondo, un'ulteriore integrazione del fondo per la progettazione dei comuni di circa 100 milioni. Vi ho sintetizzato al massimo le misure contenute nella legge di bilancio che il dottor Ferri ovviamente vi illustrerà nel dettaglio. Questa, diciamo, e vado in conclusione, è la fase attuale, il contesto in cui ci muoviamo. È un contesto con grandi difficoltà, con spazi di manovra, come leggete, anche dei giornali molto ma molto risicati. Vi dico che è un risultato, a mio avviso, molto importante. L'associazione lo ha ottenuto proprio la scorsa settimana perché vi stava arrivando un taglio in corso d'anno a novembre di 100 milioni per i comuni e di 50 milioni per province e città metropolitane. Grazie a un intervento molto determinato degli organi politici e il Presidente dell'Anci siamo riusciti a ottenere. Ringraziamo il Ministro dell'Economia, in tal senso, il Governo tutto e i parlamentari di maggioranza che hanno presentato un emendamento, in tal senso che è stato approvato in Commissione Finanze al Senato, ormai in aula con la fiducia, quindi ne abbiamo la massima certezza. Quindi non avete un taglio che era previsto, la legislazione vigente, fino a novembre eravamo riusciti a evitare che venisse fatto, ma c'era una pressione molto forte affinché fosse operato perché altre pubbliche amministrazioni lo hanno subito, siamo riusciti a sventare questo intervento che a nostro avviso era del tutto ingestibile in questa fase dell'anno. Quindi ribadisco, siamo in una fase molto complicata, quindi i nostri emendamenti saranno emendamenti praticamente, ovviamente riproporremo le nostre questioni un po' di bandiera, ma tendenzialmente dobbiamo fare emendamenti che non costano, ma cercheremo, ripeto, ci proveremo in tutti i modi a prospettare al Governo delle soluzioni tecniche che vi consentano di mitigare il taglio per il 2024. Lascerei la parola ad Andrea Ferri per il dettaglio delle questioni, grazie. Buongiorno, no, in realtà abbiamo organizzato una presentazione in cui il dottor Ferraina fa la prima parte, io poi intervengo sulla parte per equazione, fondo speciale, insomma le novità di alcuni articoli della legge di bilancio. Mi prego Giuseppe Ferrai. Ben trovati anche da parte mia. Un attimino che... L'intervento che illustreremo io e Andrea Ferri sostanzialmente costituisce una sistemazione puntuale di due documenti recentemente elaborati da ANCI e IFEL, mi riferisco al documento di audizione parlamentare tenutesi qualche giorno dietro presso la Commissione Bilancio del Parlamento e la nota di lettura al DDL Bilancio 24. Entrambi i documenti li renderemo sin dalle prossime ore consultabili presso i nostri siti e con l'auspicio di garantire attraverso questi documenti un utile ausilio in questa difficile fase di costruzione del bilancio di previsione per il triennio 24-26. Siamo nel pieno dell'iter di approvazione della legge di bilancio 24. Un primo giudizio dei comuni, analizzando il DDL, non può che essere, diciamo così, lo sintetizziamo definendo un sentimento di delusione e di preoccupazione. Preoccupazione dovuta sostanzialmente al fatto che, come accennava poc'anzi Veronica Nicotra, dopo otto anni tornano i tagli agli enti locali, nonostante ci siano lasciati alle spalle una stagione senza precedenti di contributi alla finanza pubblica da parte del comparto. Ricordiamo sempre che nel periodo che va dal 2011 al 2016 abbiamo già contribuito con 8 miliardi di tagli alle risorse, tenendo anche conto del graduale recupero del taglio ex-DL66. A questi 8 miliardi si affiancano i 6 miliardi di accantonamento al Fondo Credit di Dubbo e Sugiabilità con il passaggio all'armonizzazione contabile. Avevamo ragione noi ai tempi quando stimavamo tra i 4 miliardi e mezzo e i 5 l'accantonamento al Fondo Credit di Dubbo e Sugiabilità, quando le strutture ministeriali invece lo stimavano sui 2 miliardi e 2, 2 miliardi e 5. riteniamo tuttavia che un miliardo, un miliardo e mezzo in più sia anche dovuto a un eccesso di prudenza contabile che investe diverse centinaia dei nostri uffici di ragioneria, che invitiamo anche sotto questo aspetto a riflettere, a valutare per non depotenziare ulteriormente la capacità di spesa dal momento che noi analizziamo con i dati della BIDAP disponibili, dopo la fase pandemica i flussi di cassa di riscossione sia in conto competenze che in conto residui non giustifichi in alcuni casi un eccesso di accantonamento al Fondo Credit di Dubbo e Sugiabilità. Lo diceva prima Veronica Nicotra, vista nel quinquennio, in ogni caso il taglio apparentemente medio-basso in realtà raggiunge la quota di un miliardo e mezzo per comuni, province e città metropolitane per i prossimi 5 anni. Preoccupazione per i tagli, delusioni perché, come accennavo, non si tiene debitamente conto del contributo già dato alla finanza pubblica in questi anni, lo dice ANCI, lo dice IFEL, non basta, lo dice anche ISTAT che ha per definizione il connotato della terza età, anche i conti 22 pubblicati nelle scorse settimane ci dice che sostanzialmente il comparto comunale è un comparto dell'APA a sostanziale pareggio, meno 110 milioni, nonostante il 22 sia un anno, non dimentichiamolo mai, anche di coda della gestione pandemica, dove i nostri comuni hanno effettuato opportunamente nel governo attivo della crisi pandemica, ulteriori spese finanziate da specifici ristori di spesa e che hanno portato quindi a ridurre l'accreditamento netto dei comuni. Noi torneremo ad essere un comparto a strutturale accreditamento netto e alla luce dei tagli del precedente quinquennio e del accantamento FCDE ritenevamo che la manovra non dovesse, diciamo così, portare in dote ulteriori tagli. Oltre ai 100 milioni della cosiddetta spending informatica, il DDL all'articolo 88 definisce un taglio quinquennale per comuni, province e città metropolitane per un importo pari a 250 milioni annui. Sul piano operativo, il taglio sarà effettuato in proporzione agli impegni di spesa corrente del 2022, escludendo la missione 12 relativa alla funzione sociale, tenendo conto delle risorse PNRR assegnate al 31 12 23, ma la lettura del testo non rende immediatamente comprensibile la direzione, le modalità e l'intensità con cui questo aspetto inciderà nella distribuzione del taglio. Sono esclusi dal taglio gli enti in dissesto e predissesto e gli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di Qualcomm 567 della precedente legge di bilancio e del decreto 50 2022, l'articolo 43, che si riferiva ai comuni capoluogo di provincia, in una situazione di disavanzo. In realtà però apparentemente lineare e di sostanziale agevole lettura, il taglio sul piano operativo non è così immediato nella sua comprensione, per cui riteniamo opportuno una specifica riflessione di carattere operativo sulla misura in questione. Soprattutto sarebbe opportuno concentrare l'attenzione sulla previsione del comma 10 dell'articolo 88, dove si afferma che i comuni, pur subendo il taglio, dovranno accertare per intero l'ammontare del fondo di solidarietà comunale spettante e poi scrivere in spesa, quindi evidente da intendersi una tantum, essendo il taglio a tempo determinato e non strutturale e indeterminato sul piano temporale, quindi una spesa straordinaria e non ricorrente, l'ammontare del taglio come trasferimento allo Stato in ragione di provvedimento e di revisione della spesa. Poi il comune singolo regolarezzerà con apposito mandato di pagamento la partita, che quindi trattandosi di una spesa straordinaria e non ricorrente, riteniamo possa trovare copertura non solo con entrate correnti ordinarie, ma anche mediante l'utilizzo di avanzo disponibile. Sotto questo profilo sarà a premura dell'Anci presentare nelle prossime ore un ammendamento apposito, specifico, che miri ad escludere in partenza eventuali dubbi interpretativi che si potrebbero sollevare circa appunto l'utilizzo dell'avanzo disponibile per fronteggiare il taglio. Quindi in definitiva, da un lato, la disposizione esclude dal taglio gli enti in condizioni di particolare sofferenza finanziaria, enti in dissesto, enti in predissesto, enti impegnati in accordo col governo a sviluppare un percorso di graduale risaramento finanziario. Contestualmente la disposizione favorisce il rientro dal taglio attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili straordinarie, come l'avanzo disponibile in bilancio. E questo è brevemente esponiamo, diciamo, un quadro degli avanzi e dei disavanzi nel comparto comunale, che sintetizza la specificità, la peculiarità del nostro comparto, no? No, siamo un comparto che nelle sue due tipologie si differenzia tra chi ha avanzi molto consistenti e che sono anche aumentati nel periodo pre e post pandemia, così come anche grazie all'ausilio dello Stato il numero degli enti in disavanzo in questi anni di particolare criticità finanziaria dovuto alla crisi pandemica, siamo riusciti a passare da 1500, a ridurre da 1500 a 1200 gli enti in condizione di disavanzo. I casi di sofferenza finanziaria si concentrano prevalentemente nel centro-sud del Paese e manifestano, come appena accennato, una dinamica di rientro piuttosto consistente dovuta anche se non soprattutto ai contributi speciali concessi a partire da due o tre anni addietro dallo Stato. Quindi un'attenzione dello Stato che bisogna riconoscere verso i casi di sofferenza finanziaria dei comuni avviatesi opportunamente negli ultimi due barra tre anni e che continua con il disegno di legge per l'anno 24 con la previsione di specifiche misure ulteriori di sostegno. In particolare all'articolo 79 viene previsto un contributo ai patti con i comuni capoluogo di provincia sono i comuni interessati dall'articolo 43,2 del decreto 50 del 22 ai quali prima era riservata la possibilità di operare accordi con il governo senza però prevedere un contestuale impegno dello Stato nel garantire specifici contributi finanziari in questo accompagnamento verso i piani di rientro. Oggi questa dotazione è prevista per 50 milioni di anni, per dieci anni, a partire dal 24 fino al 2033. Questi accordi interessano i comuni con disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro e due comuni sede di città metropolitana che hanno invece un debito pro capite superiore a 1000 euro. Il contributo è destinato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e in via residuale, qualora vicino ulteriori risorse a disposizione, al rimborso delle quote capitali del debito. Un'ulteriore misura, sempre a sostegno dei casi di particolare sofferenza finanziaria, è l'articolo 80. Qui è previsto un contributo anno di 10 milioni dal 24 al 38, sempre finalizzato prioritariamente al ripiano del disavanzo e vengono concesse altre armi, diciamo, di carattere finanziario per governare il processo di rientro, in particolare la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF di 0,4% rispetto al tetto ordinario stabilito e consentire anche l'applicazione di un addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale ed aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro. Il contributo sarà stabilito con l'apposito decreto entro il 31 marzo, predi e intesa in CSC, e sulla base delle informazioni disponibili alla BIDAP si individueranno gli enti beneficiari di questa apposita misura. Questo impegno reiterato da parte del governo nei confronti dei casi di particolare sofferenza finanziaria anzi lo ritiene giustificato nonostante vi siano stati già nel triennio che ci lasciamo alle spalle diverse misure di sostegno finanziario, proprio per la peculiarità del nostro comparto, che ricordiamolo diversamente da altri settori dell'APA, vive essenzialmente di entrate proprie e correnti, è quindi maggiormente investito dalle dinamiche non regolari di flussi di cassa, come lo dimostrano gli accantonamenti all'FCDE, e nelle difficoltà di garantire servizi essenziali alle proprie comunità e propri cittadini in un contesto di ripresa della dinamica inflazionistica e, come accennava Pocanzi Veronica Nicotra, con una struttura della finanza locale che è a reddito fisso. E pertanto accompagnare ulteriormente i comuni in crisi finanziaria con appositi strumenti di ausilio finanziario lo riteniamo importante, anche alla luce del fatto che, nonostante alcuni buoni proposti che abbiamo registrato nel corso degli anni, non siamo pervenuti come sistema ad una vera riforma organica, definitiva della disciplina sulle crisi finanziarie. Oggi ancora caratterizzata, definiamo noi, da norme di far ragionosa inefficace e che dimostra anche il fatto che nei primi otto mesi del 2023 si registrano ancora molti altri casi di crisi. 16 dissesti ci risultano ulteriori 21 piani di riequilibrio, quindi condizione di predissesto. Nello specifico chiediamo che sia sospesa anche per l'anno 24 l'iscrizione in bilancio dei disavanzi FAL per gli enti in dissesto e che si possa consentire ad alcuni capoluogo di provincia di riaprire i termini per accordarsi con il governo per rientrare negli accordi di quell'articolo 43. Ulteriori contributi a sostegno degli enti in dissesto e predissesto utili per accompagnarli in un percorso di risanamento tenuto conto della loro strutturale debolezza con riferimento alle risorse straordinarie. Accanto a questo specifico interesse e supporto del Lanci verso le condizioni di sofferenza finanziaria, le richieste del Lanci mireranno anche alla tenuta generale degli equilibri correnti. ci preoccupa fortemente la dinamica inflazionistica in corso nonché la ritirata su più fronti del welfare statale in corso. Quindi i due fattori aumenteranno la pressione sui servizi sociali a livello comunale generando nei comuni difficoltà ulteriori per la tenuta degli equilibri di parte corrente. in particolare chiediamo più flessibilità in materia di utilizzo dell'avanzo libero, una riduzione dell'FCDE a fronte di un ulteriore impegno verso programmi di potenziamento della riscossione, misure più flessibili in materia di assunzione del personale di costo accessorio del personale. tutte queste richieste devono e potranno essere definite senza compromettere comunque la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi. chiediamo che siano integrate e potenziate le politiche sul disagio abitativo muovendo innanzitutto dal riferanziamento dei fondi affitto in morosità incolpevole auspichiamo l'istituzione di un fondo sociale nazionale unico dove razionalizzare i diversi fondi nazionali oggi suddivisi in molteplici programmi di finanziamento questo sia per agevolare che per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse estanziali anche perché siamo alla vigilia dell'avvio dei livelli essenziali delle prestazioni di LEPS che oggi sono in corso di elaborazione. In ogni caso sul tema, lo riprenderà Andrea Ferri da più a poco noi auspichiamo che sia esclusa ogni ipotesi di fiscalizzazione regionale dei fondi sociali attualmente assegnate ai comuni per il tramite delle regioni nel settore sociale più o meno 1,3 miliardi in quanto risorse che finanziano una funzione fondamentale del nostro comparto come in realtà anche per il fondo TPL. Infine auspichiamo l'istituzione di un fondo nazionale per la sicurezza urbana per far fronte alle crescenti richieste di sicurezza rivolte ai sindaci di modo che si possano soddisfare anche tramite nuova estensione di polizia locale appunto queste crescenti richieste di sicurezza mosse al cospetto dei sindaci. Oltre ai tagli il DDL prevede tuttavia alcuni contributi specificamente rivolte agli enti locali. l'aveva richiamato Pocanzi Veronica Nicotri innanzitutto i contributi per la progettazione. L'articolo 81 oltre ad aggiungere 100 milioni di anni nel triennio 24-26 alla precedente dotazione che già prevedeva 200 milioni per questo triennio elimina il richiamo alla progettazione definitiva ed esecutiva in coerenza con la riforma che ha investito il codice degli appalti favorendo così opportunamente tutti gli interventi di spesa rivolti alla messa in sicurezza di strada e territorio e di efficientamento energetico degli edifici e del patrimonio disponibile. Si ricorda che la richiesta da parte dei comuni degli enti locali dovrà essere rivolta al Ministero dell'Interno entro il 15 gennaio di ciascun anno utilizzando la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento. Il Ministero renderà noto l'ammontare del contributo per ciascun comune entro il 28 febbraio dovranno i comuni nelle mesi successivi nei sei mesi successivi comunque definire il contratto di affidamento come obbligazione giuridica vincolante. Mi dice Stefania Dote che per il 23 è stato neggiano i scorsi già pubblicato il decreto di scorrimento della graduatoria. Altri contributi previsti per i comuni una dotazione triennale pari a 75 milioni nel 24 305 milioni nel 25 8 milioni nel 26 e altri contributi in conto capitale per gli interventi connessi all'evento del giubileo. Per i maggiori oneri connessi all'evento del giubileo tra questi compreso il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a tutti i titolari dell'imposta di soggiorno si concede la facoltà di incrementare la misura nel limite di 2 euro per notte per solo 25. Inoltre però è importante specificarlo quale norma ormai di carattere generale si include in modo esplicito tra gli oneri finanziabili con il gettito dell'imposto di soggiorno quelli relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Altra opportuna norma da richiamare è l'articolo 85 un contributo specifico destinato ai piccoli comuni alle aree interne e svantaggiate. Ricordiamo che vi era un contributo di 50 milioni per i piccoli comuni le aree interne nel 22 nel 23 non era stato rifidenziato ritorna dietro espressa e reiterata richiesta del Lanci con una datazione però di 30 milioni a favore dei comuni avanti meno di 5 mila abitanti che registrino problemi di spopolamento 5% o meno di popolazione a fine 22 rispetto al 2011 e con un reddito medito pro capite inferiore di oltre 3 mila euro rispetto alla media nazionale è un indice di vulnerabilità sociale e materiale l'Ivsm superiore alla media nazionale auspichiamo che in fase di approvazione del disegno di legge siano in parte modificati questi criteri di modo che si possa migliorare diciamo così l'allocazione delle risorse previste per evitare eccessi di restrizione ricordando che sia l'Ivsm che il limite di reddito agiscono nella distribuzione del contributo in commento quali soglie di ingresso con quest'ultima riflessione cederei la parola ad Andrea per la prosecuzione dell'analisi sì, grazie Giuseppe rimarrei un momento sulla questione piccoli comuni aree svantaggiate come giustamente veniva osservato poco fa da Giuseppe Ferraina qui si utilizzano sia la soglia di reddito che l'indice di vulnerabilità sociale e materiale come soglie di ingresso questo determina una selezione molto severa e molto poco razionale insomma del contributo così come era già accaduto in un contributo analogo un pochino più generoso di 50 milioni per il solo anno 2022 e qui hanno ripreso esattamente lo stesso meccanismo in realtà noi sappiamo che lo spopolamento è un fenomeno tipico di tutte le aree interne e l'elemento reddito l'elemento Ivsm non sono indicatori adeguati se non altro non adeguati per definire il diritto dovrebbe essere definito il diritto sulla base della determinazione di una soglia di spopolamento perché quello è il fenomeno su cui si vuole intervenire e poi usare come proporremo con un emendamento elementi reddituali e eventualmente anche questo indicatore Ivsm su cui siamo molto diffidenti ovviamente perché è un indicatore completamente calcolato con dati del 2011 quindi insomma non proprio coltivati nemmeno da parte dell'Istat ma comunque potendo utilizzare sia il reddito che l'Ivsm come correttivi di un meccanismo di finanziamento che sia un pochino appunto più ampio quanto a soli d'ingresso questo è quello che proporremo posso andare posso manovrare io oppure benissimo le due parole che io voglio aggiungere prima di chiudere questa parte di tipo più strettamente finanziario riguardano la perequazione e questo fondo speciale equità a livello servizi che insomma ha un titolo impronunciabile se non in modo scherzoso il fondo SELS e quindi è una novità che viene introdotta per un motivo molto preciso e che cerca di rispondere a vizi di illegittimità riscontrati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 71 del 2023 che diceva questa sentenza la sentenza si riferiva in particolare delle eccezioni di costituzionalità dell'inserimento riguardanti l'inserimento nel fondo di solidarietà comunale di ingenti somme perché stiamo parlando a regime di quasi 2 miliardi di euro 1.955.000 circa per il potenziamento quindi con un vincolo di destinazione specifico relativo al potenziamento di asili nido servizi sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità quella cosa che insomma ormai tra il 21 e il 22 è entrata nella pratica corrente insomma di tanti enti che devono guardare questa dimensione di finanziamento specifico e con vincolo di destinazione proprio per assicurare il raggiungimento di cosiddetti obiettivi di servizio annuali molto chiari nel caso degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità perché sono posti in più in asilo o posti in più nel servizio di trasporto per quella fascia di studenti un po' più complesso ma insomma anche lì poi in sintesi è spesa aggiuntiva per un gran numero di comuni relativamente ai servizi sociali e questa eccezione che è stata posta davanti alla Corte Costituzionale ha prodotto una sentenza che dice fondamentalmente due cose la prima che non è legittimo mettere insieme nello stesso fondo come se fosse un contenitore neutro risorse con diverse finalità il fondo di solidarietà comunale contiene già di per sé risorse con finalità assortite perché contiene una quota molto importante di risorse di ristoro per gettiti perduti dai comuni per agevolazioni statali per esempio il gettito IMU sull'abitazione principale contiene la redistribuzione alimentata la redistribuzione pedequativa alimentata dalla trattenuta fatta su l'IMU di tutti i comuni e oltre a questo conteneva fino a questa modifica che entrerà in vigore dal 2025 anche quote speciali di contribuzione a titolo vincolato la Corte Costituzionale dice questo non è giusto perché dobbiamo tenere distinta la perequazione generale quella dell'articolo 119 Costituzione comma terzo che è di carattere generale e senza vincolo di destinazione dalla perequazione speciale sempre l'articolo 119 della Costituzione comma quinto che riguarda interventi speciali dello Stato appunto per il raggiungimento di un livello di servizi connesso in qualche modo o direttamente o indirettamente con i livelli essenziali delle prestazioni anch'essi ovviamente presidiati dalla Costituzione quindi questo inserimento di fondi con risorse con motivazioni e finalizzazioni diversificate è un elemento di confusione che non è ammissibile il secondo elemento di contrasto con la Costituzione secondo la sentenza 71 è che non è corretto come finora il fondo di solidarietà prevedeva in queste sue quote aggiuntive sanzionare l'ente che non raggiunge gli obiettivi di servizio ritirando gli soldi recuperando i soldi assegnati una sorta di sanzione finanziaria che secondo la sentenza secondo la Corte Costituzionale confligge col fatto che il raggiungimento di quegli obiettivi di servizio è un elemento diciamo intimamente connesso con il raggiungimento di livelli essenziali di prestazione anche qui in maniera diretta o indiretta ma insomma con una connessione abbastanza evidente quindi non è la sanzione economica che si può accettare semmai si può individuare un meccanismo di surroga che impegni e obblighi l'ente inattempiente a raggiungere determinati risultati proprio per a garanzia dei diritti dei cittadini queste due cose la tabella qui riporta semplicemente l'ammontare di questi fondi che ripeto a regime nel 2030 ammonteranno a circa due miliardi scarsi i gasili nido e il trasporto scolastico studenti disabili vanno a regime già nel 27 rispettivamente con un miliardo e cento e centotrenta milioni 120 milioni di euro annui strutturali stabilmente cosa fanno gli articoli 83 e 84 rideterminano in primo luogo con l'articolo 83 la dotazione del fondo di solidarietà comunale scorporando le risorse aggiuntive e vincolate a decorrere dal 2025 in un fondo apposito e nuovo il fondo speciale equità livello servizi quindi diciamo mettono in primo luogo apposto il primo punto dicendo costruiamo un fondo apposito per l'incentivazione finanziata di quei servizi di rilevanza sociale mentre il dopo il periodo di avvio di raggiunta della condizione a regime dei fondi e anche degli obiettivi di servizio sottostanti a questi fondi tra il 29 e il 31 queste risorse sono fatte rientrare nel fondo di solidarietà comunale c'è una specie di chicane il fondo si divide nel 2025 per poi progressivamente riunirsi sempre nel fondo di solidarietà il fondo di solidarietà comunale parte unitario oggi ancora fino al 24 dal 25 al 29 30 si divide e poi ritorna un fondo unico perché ritorna un fondo unico perché a quel punto il legislatore sembra intendere gli obiettivi di servizio saranno raggiunti sulla base delle incentivazioni che confluiscono ora nel 25 nel fondo speciale equità e successivamente un anno due anni dopo il raggiungimento di questa situazione al regime e le risorse stesse del fondo di solidarietà che verranno rialimentate con queste risorse temporaneamente escorporate concorreranno al mantenimento al regime di livelli essenziali di prestazioni o di obiettivi di servizio ormai consolidati questa è un po' la logica di questa operazione che si fa sui fondi ciò avviene sostanzialmente a parità di risorse vedremo una tabella tra un attimo ma non vanno sottasciute le problematiche applicative su cui avremo qualche tempo per discutere perché appunto la norma entra in vigore nel 25 e non immediatamente in particolare sarà da discutere le modalità di individuazione delle risorse aggiuntive riguardanti i servizi sociali che diversamente dagli altri due servizi i servizi sociali godono di un finanziamento aggiuntivo riconosciuto a tutti i comuni non solo quelli in carenza di servizio e quindi bisognerà capire se questo meccanismo dovrà essere modificato oppure come dovrà essere interpretato nello scorporo delle risorse sui due fondi dal 25 al 29 al 31 in questo caso perché l'orizzonte di andata a regime del sociale più lungo va anche detto che insomma come si diceva poco fa un sistema di lab ben definito sui servizi sociali ancora non c'è quindi andrà un po' visto sulla base della definizione di questi lab sociali che è attesa nel grosso perlomeno entro l'inizio del 2024 va anche osservata che c'è osservato che c'è attualmente una certa imperfezione nel grado di copertura leppe per gli asili nido e il trasporto studenti con disabilità perché probabilmente gli obiettivi di servizio che oggi sono relativi al singolo comune mal si attagliano a comuni di piccolissime dimensioni che hanno pochissimi o pochi bambini in età per usufruire del servizio quindi probabilmente ci dovrà essere qualche riflessione anche su questo come accennavo da ultimo l'operazione dicevo avviene a parità di risorse complessive la tabella diciamo così lo dimostra nella prima colonna c'è la dotazione del fondo di solidarietà a legislazione 2023 e nell'ultima la penultima colonna la dotazione della nelle ultime colonne la dotazione del fondo speciale di nuova istituzione e del fondo di solidarietà sulla base delle norme 2024 quindi con i cambiamenti che queste norme inducono e l'unica differenza che c'è nella dotazione complessiva sono una riduzione di 72 milioni di euro che decorre dal 2030 ma che non ha a che fare direttamente con questa operazione ma dipende dal fatto che il decreto 124 del 2023 ha imposto un taglio del fondo di solidarietà dal 2030 per motivi di copertura delle assunzioni negli enti territori del mezzogiorno previsti appunto dal decreto cosiddetto sud da ultimo altrettanto importante dal punto di vista dell'ottemperanza alla sentenza 71 il regime sanzionatorio viene modificato sul fondo di solidarietà 2023 insomma nella disciplina del fondo di solidarietà quindi anche fino al 24 non opera più la previsione di recupero delle somme in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali quindi queste somme rimangono se capiamo bene da come hanno cancellato certi riferimenti in ciascuno dei punti coinvolti del comma 449 della legge di bilancio del 2017 che è la disciplina del fondo attualmente vigente non c'è un meccanismo espresso chiaro di come vengono utilizzati i fondi non utilizzati dal singolo comune se rientrano nel fondo di solidarietà e ridistribuiti diversamente oppure no ma poco importa nel funzionamento del fondo speciale nel periodo di funzionamento cioè dal 2025 al 2030 gli eventuali mancati raggiungimenti degli obiettivi annuali sono oggetto di potere surrogatorio da parte del ministero dell'interno che fa un po' impressione perché prevede la nomina del sindaco come commissario anche sugli obiettivi annuali 25 26 27 insomma per gli anni di funzionamento del fondo speciale che forse è un po' esagerato nel senso che si pretende di intervenire con grande rapidità attraverso nomine che potrebbero riguardare centinaia di enti e probabilmente rischierà di essere inefficace ma ripeto ci sarà tempo per ragionare su questi argomenti il recupero delle somme a favore dello Stato è in linea di massima abolito salvo nel caso che in questi primi anni di applicazione degli obiettivi di servizio può essere rilevante in cui il comune certifichi l'assenza di utenti di necessità del servizio oggetto di incertivazione quindi nel momento in cui si dice no vabbè tu avevi certi dati ma in realtà io non ho bambini in età oppure non ho studenti nelle condizioni di disabilità da essere da necessitare un servizio specifico di trasporto scolastico allora a quel punto chiaramente insomma le somme rientrano nella disponibilità del fondo di solidarietà o del fondo speciale per poter essere utilizzati al meglio sugli stessi obiettivi grazie non so che se do io la parola comunque sì grazie Andrea io ho un brevissimo aggiornamento invece in materia di personale poi passo la parola ad Agostino Bultrini che è qui vicino a me perché così vi da anche mi fa una rapida panoramica delle richieste che stiamo portando avanti proprio a seguito anche degli oneri che il nuovo la nuova legge di bilancio pone a carico dei bilanci degli enti locali in particolare l'articolo 10 della legge di bilancio prevede che a valere sulle risorse per gli enti locali sulle risorse di bilancio gli oneri appunto derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2022 2024 nonché quelli derivanti dalla corrispondzione dei miglioramenti economici siano appunto a carico dei rispettivi dei rispettivi bilanci questo che cosa vuol dire abbiamo stimato per il comparto un un diciamo un onere pari a circa 800 milioni di euro tenete conto che il contratto collettivo nazionale per la dirigenza è in dirittura d'arrivo che siamo appunto in fase di elaborazione della stesura definitiva stiamo negoziando con i sindacati proprio il contratto della dirigenza e quindi sicuramente questa è una delle norme che grava maggiormente sui bilanci degli enti locali come aveva accennato d'altronde anche all'inizio il collega Giuseppe Ferraina sempre in materia di bilancio però faccio un passo indietro perché avevamo deciso di darvi anche un'ulteriore informazione circa il rispetto per l'esercizio finanziario in corso del decreto ministeriale quello del 4 agosto 2023 in materia di appunto tempistica e programmazione per l'approvazione del bilancio di previsione come sapete Anci ha espresso una posizione abbastanza critica sull'entrata in vigore già per l'esercizio 2024 di una tempistica così ristretta e così diciamo stringente andando anche oltre quanto previsto da regolamenti di contabilità interna degli enti locali e aggiungendo altre tre date rispetto a quelle che sono già previste dal testo unico degli enti locali in materia di appunto programmazione approvazione dei bilanci di previsione quindi abbiamo mandato la nota che abbiamo divulgato i primi di ottobre al ministro dell'interno chiedendo una tecnica in conferenza stato città questa tecnica in stato città questa riunione c'è stata la settimana scorsa e possiamo già anticiparvi che su di un punto si è concordi cioè che per l'esercizio finanziario quindi per il bilancio di previsione 2024 anche il MEF ha concordato sul fatto che non siano diciamo da non sia da tener conto non siano da tener conto le date le tempistiche previste nel decreto quindi l'efficacia dello stesso decreto ministeriale sarà appunto quella relativa all'esercizio finanziario 2025 e quindi all'approvazione del bilancio di previsione 2020 appunto 2025 27 ma rimane ancora in sospeso l'ulteriore criticità che Anci ha rilevato rispetto invece alla definizione delle degli ulteriori adempimenti previsti al diciamo in un punto nel capitolo 9 del decreto ministeriale all'ulteriore adempimento richiesto agli enti locali in caso di rinvio dei termini dei bilanci di previsione disposti con decreto ministeriale appunto il rimane la criticità dell'ulteriore e a nostro avviso ultroneo adempimento per gli enti locali di dover andare in consiglio comunale ad approvare una deliberazione che giustifichi il rinvio del bilancio di previsione alla luce delle motivazioni già contenute nel decreto ministeriale questa criticità per noi è pesante lo abbiamo rilevato ne abbiamo discusso in sede tecnica non non ci accontentiamo diciamo che non abbiamo espresso un parere favorevole rispetto alla soluzione individuata sempre in sede tecnica di avere un'unica motivazione da parte dei consigli comunali ma in sede di approvazione definitiva del bilancio di previsione nel rispetto dei termini di rinvio previsti dal decreto ministeriale noi crediamo che un rinvio disposto con decreto ministeriale non necessiti di nessuna motivazione da parte degli enti locali rispetto al diciamo all'utilizzo tra virgolette passatemi il termine poco tecnico all'utilizzo di questo rinvio già disposto con un decreto previsto dal Tuel e quindi ci siamo riservati di discuterne nuovamente in sede politica perché per noi è un punto di rimente che può creare difficoltà rischi di contenzioso all'interno dei consigli comunali e non ne capiamo diciamo le motivazioni sia pur derivanti da una norma primaria riteniamo che il decreto sia andato oltre quanto previsto appunto da disciplinare dalla norma primaria ritornerò dopo su alcune domande in materia di personale che sono pervenute nel frattempo in particolare sul turnover sulla paura di un ritorno al turnover e spiegherò anche il perché di questo timore ora passerei la parola invece ad Agostino Bultrini per diciamo individuare quali sono le azioni e le proposte di correttivo che noi manderemo in Parlamento entro domani sul personale ed in particolare appunto le proposte più significative che abbiamo inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica è già discusso e che rientreranno in un tavolo ad hoc appunto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF a seguito dell'approvazione della legge di bilancio grazie Stefania io inizierei da una diciamo un risultato positivo che abbiamo già raggiunto riallacciandomi al discorso relativo ai bilanci con il decreto legge omnibus è stata introdotta una norma in sede di conversione dell'articolo 21 bis che offre una soluzione a un problema rilevato nel corso degli anni che riguarda le assunzioni in regime di esercizio provvisorio in particolare norma di interpretazione autentica quindi retroattiva che chiarisce per tutti i comuni che chiarisce come i comuni appunto possano impegnare la spesa corrente con le regole definite dall'articolo 163 Tuel per l'esercizio provvisorio anche per effettuare assunzioni a tempo indeterminato questa norma di carattere generale valevole per tutti i comuni e ripeto di carattere retroattivo in quanto formulata come norma di interpretazione autentica una norma poi specifica sempre articolo 21 bis secondo comma specifica per gli enti in condizione di riequilibrio pluriannale o dissesto che chiarisce come le autorizzazioni alle assunzioni di personale effettuate dalla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il ministero dell'interno non valgano solo per l'anno in cui vengano rilasciate ma siano efficaci fino al 30 giugno dell'anno successivo e questo anche nel caso di esercizio provvisorio e in buona sostanza questa questa seconda norma per quanto incide su un ambito più ristretto che è quello degli enti appunto di equilibrio o pluriannale o dissesto agevola notevolmente le assunzioni in quanto appunto questi enti non si trovano più schiacciati nella margine temporale ridotto che va dall'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre dell'esercizio dell'esercizio in corso e premesso questo mi riallaccio invece al tema delle degli oneri per i rinnovi contrattuali anche qui c'è una norma vigente che merita un richiamo contenuta nel decreto legge fiscale l'articolo 3 in particolare il comma 3 che interessa anche gli enti locali il decreto legge fiscale ha previsto un'anticipazione la possibilità di anticipare nel mese di dicembre 2023 una quota dei rinnovi contrattuali quindi si tratta di un obbligo per le amministrazioni centrali di una facoltà per le amministrazioni locali quindi allora esatto si tratta appunto allora si tratta di un'anticipazione sul 2024 quindi l'annualità di riferimento è sempre a valere sull'anno 2024 la facoltà è quella di anticipare questa erogazione in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 come la modalità di computo è di fatto un incremento appunto del 6,7% dell'indenità di vacanza contrattuale che ammonta oggi allo 0,5 quindi un 3,35% e che si riferisce alle 12 si riferirebbe nel caso di anticipazione effettuata nel mese di dicembre 2023 alle 12 mensilità del 2024 le cose gli elementi da sottolineare appunto torno a sottolineare il termine facoltativo sono le seguenti e cioè che questa facoltà è esercitabile solo con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato quindi l'ente che opzioni questa facoltà magari con l'idea di semplificare si troverà comunque nel 2024 a erogare mensilmente questo incremento ai dipendenti a tempo determinato e l'altro elemento da evidenziare è che nel caso in cui si effettui questa anticipazione a un dipendente che nel corso del 2024 cessa dal servizio sarà necessario recuperare la quota dell'anticipazione quindi diciamo che c'è questa possibilità questa facoltà ma presenta una serie di elementi di complessità gli enti che non adottano questa facoltà come previsto dall'articolo 10 del DDL bilancio semplicemente erogheranno questi importi queste anticipazioni mese per mese da gennaio a dicembre sostanzialmente a partire da gennaio 2024 fino alla data del rinnovo contrattuale perché si tratta di fatto di anticipazioni dei rinnovi contrattuali su tutto il personale quindi non soltanto sui tempi indeterminati e quindi con una modalità più come dire uniforme per per il per il personale ora tornando alla questione alla questione legge di bilancio e proposte ANCI un primo link proprio con l'argomento che ho appena trattato è stato esposto e rappresentato quello che è l'impatto in termini finanziari di questi incrementi contrattuali c'è una corollario di questo aspetto che riguarda l'incidenza degli oneri contrattuali sulla capacità assunzionale dei comuni intanto appunto in risposta ad un quesito giunto nel corso del webinar la legge di bilancio non prevede un ritorno al turnover quindi non cambia le regole assunzionali il riferimento rimane il decreto ministeriale 17 marzo o meglio rimane l'articolo 33 comma 2 per i comuni comma 1 bis per le città metropolitane del decreto legge 34 del 2019 e il decreto attuativo odm 17 marzo 2020 e come sappiamo e questa è una diciamo una battaglia che l'Anci ha condotto sin dalla prima applicazione del decreto gli oneri contrattuali incidono si computano ai fini della determinazione della spesa di personale che serve come numeratore della come dire del meccanismo di calcolo dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti che determina il valore come dire il valore della rigidità strutturale del bilancio dell'ente ai fini dell'individuazione della sua come dire capacità assunzionale quindi l'Anci a suo tempo ha ottenuto la possibilità di neutralizzare ai fini del calcolo della spesa di personale gli arretrati contrattuali ma non gli oneri a regime ora su questo aspetto appunto una norma che noi stiamo proponendo in legge di bilancio è quella proprio di appunto scorporare neutralizzare dalla spesa di personale il valore di queste anticipazioni di queste anticipazioni che di fatto costituiscono un elemento speculare al concetto di arretrato contrattuale quindi sostanzialmente cerchiamo intanto di incidere in maniera positiva sulla neutralizzazione per le assunzioni intanto sul valore di queste anticipazioni straordinarie e c'è poi un tema più generale che riguarda la revisione dei valori soglia del decreto e questo è un punto su cui stiamo aprendo il tavolo con i ministeri competenti con funzione pubblica con ragioneria generale dello Stato perché ovviamente lo stesso decreto prevede un aggiornamento dei valori soglia effettuato con cadenza quinquennale e quindi siamo vicini al quinquennio è il momento di tornare ad un confronto tecnico su quelli che sono i valori soglia individuati dal decreto ministeriale e altri elementi che appunto saranno affrontati nella sono affrontati nei nostri emendamenti alla legge di bilancio una questione che interessa i piccoli comuni beneficiari del fondo previsto dall'articolo 31 bis del decreto legge 152 del 2021 quindi un fondo istituito presso il ministero dell'interno che è destinato a fornire un contributo economico alle assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e alla copertura parziale del trattamento economico dei segretari comunali nei comuni con meno di 5.000 abitanti e quindi comuni già individuati in base ai decreti ministeriali 30 dicembre 2022 e 1 maggio 2023 un elemento di criticità che abbiamo registrato è quello della possibilità sostanzialmente di impiegare le risorse assegnate dal ministero anche nelle annualità successive rispetto a quelle di assegnazione e questo perché appunto le procedure di assegnazione delle risorse hanno richiesto tempo le procedure di selezione del personale richiedono tempo per cui si può creare la situazione paradossale per cui il comune beneficiario delle risorse per una determinata annualità di fatto poi non riesce ad utilizzarle e deve restituirle quindi ci sarà una norma una nostra proposta normativa anche per rispondere a questo tipo di esigenza una norma che non prevede una copertura in quanto sostanzialmente il fondo è già una sua copertura per gli anni dal 2022 al 2026 e altre questioni riguardano il tema anche questo di il tema dei trattamenti economici accessori e quindi questo vincolo finanziario che fotografa le risorse disponibili per i trattamenti accessori all'anno 2016 ormai come dire lontano e anacronistico e quindi anche qui la richiesta del lanci è quella di adottare una rimodulazione di questo limite che sia più legata alle dinamiche degli organici degli organici del comune e questi sono diciamo gli aspetti principali che sono nel pacchetto di emendamenti ANCI in materia di personale sì grazie Agostino io scorrerai un po' le domande perché tanti diciamo cominciamo da quelle del personale così poi passo la parola ad Andrea e a Giuseppe per quelle invece in materia di di finanza molti ci hanno chiesto in chat molti quesiti riguardano il ritorno al turnover nel diciamo per le assunzioni di personale questa preoccupazione ci rendiamo conto che è derivata dal fatto che in una primissima bozza della legge di bilancio e non quella approvata definitivamente mandata non quella che è in Parlamento vi era una norma che prevedeva per l'appunto il ritorno alla regola del turnover per le assunzioni del turnover addirittura al 25% per le assunzioni a tempo determinato questa questa norma è stata stralciata anche diciamo su intervento di ance nazionale quindi non non c'è per il momento alcun riferimento in legge di bilancio al rientro della regola del turnover per le assunzioni a tempo indeterminato è vigente invece come ricordava il dottor Bultrini il DM 17 marzo 2020 con il criterio della sostenibilità finanziaria per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e appunto noi a breve avremo apriremo un tavolo già richiesto da ANCI a funzione pubblica con tutti i ministeri interessati per la revisione dei criteri dei valori soglia e la sterilizzazione appunto da da questi valori anche degli oneri derivanti dai dai rinnovi contrattuali per i motivi che dicevamo prima poi più che una domanda c'è una richiesta di sterilizzazione della spesa dei segretari comunali dal computo appunto delle spese di personale ci abbiamo provato tante volte e ad oggi diciamo il nostro la nostra proposta emendativa non ha non è stata ritenuta ammissibile per il parere contrario della ragioneria generale dello Stato e condividiamo però la richiesta da parte dei piccoli comuni in particolare quelli che hanno beneficiato peraltro del fondo di cui diceva il dottor Bultrini e quindi proveremo nuovamente rispetto a a questa sterilizzazione proprio perché essendoci peraltro poi il tetto sul trattamento del sul tetto del trattamento appunto economico accessorio proprio diventa ancora più insostenibile per i piccoli comuni la mancata sterilizzazione della sola figura del segretario comunale sulla sulla finanza per per aiutarti Giuseppe c'è invece la richiesta di un comune che ci chiede quando avremo certezza sulle eventuali compensazioni sul fondo di solidarietà dei fondi d'emergenza covid è il problema delle certificazioni della certezza su cui appunto noi stiamo valutando la politica sta valutando anche rispetto a questa incertezza la richiesta di un rinvio dei termini per l'approvazione dei bilanci sì sulle sulla regolazione finale delle risorse covid le compensazioni vi saranno il decreto prevedeva entro il 30 ottobre che non vi che vi fosse la regolazione finale stiamo lavorando per di concerto anche con la ragioneria generale dello Stato per definire rettifiche su entrate e spese con riferimento all'intero triennio a questo punto 20 21 e 22 è stato è un lavoro difficile complesso e penso che nelle prossime settimane inizierà ad esserci un primo allegato in tal senso si riunirà il tavolo 106 per definire e avallare definitivamente tutte le regole direttifiche poste in essere auspichiamo poi che con una regola ad hoc con una disposizione ad hoc la regolazione definitiva avvenga nei primi mesi del 2024 senza inficiare la competenza dell'anno nel dare o avere ulteriori risorse legate alla regolazione finale comunque fuori dall'FSC cioè la regolazione definitiva della certificazione per le risorse covid non investerà affatto il fondo solidità comunale saranno vi saranno enti che alla luce della analisi pluriannale 20 22 riceveranno altre risorse per non avere visto soddisfatto pienamente il fabbisogno del bienio 20 e 21 vi saranno enti che dovranno restituire risorse connesse al mancato utilizzo di ristori specifici di spesa non utilizzati appunto e per un fabbisogno che alla luce di eventuali rettifiche in entrata o in spesa potrebbe modificarsi rispetto ai dati inviati con le certificazioni ma ripeto saranno compensazioni fuori dal fondo di solidità comunale con una regola ad hoc di modo che possano diciamo così chiudere la partita anche gli enti in disavanzo quindi utilizzando avanzi vincolati in deroga ai gommi 897 898 e ritengo che sarà fatto entro gennaio 24 sulle attribuzioni dei fondi per servizi sociali asilo nido non spese negli esercizi precedenti sono venute meno le sanzioni per chi non ha utilizzato tale risorse che restano al momento nel proprio bilancio con vincolo originario di destinazione aggiungere un paio di cose su su sanzioni per obiettivi di servizio e DUP tanto il DUP che è sempre un argomento scivoloso perché noi dobbiamo deliberare il DUP non abbiamo una definizione precisa diciamo del percorso di approvazione tanto che noi abbiamo detto in diverse note il termine per l'approvazione del DUP è di carattere ordinatorio il DUP può essere meglio se presentandolo comunque al Consiglio naturalmente in tempi non troppo prossimi al bilancio ma comunque approvato insieme al bilancio questo è tanto più vero come ci dice se non ricordo male la dottoressa Nigro in una in una domanda tanto più vero per i comuni più piccoli dove effettivamente insomma il percorso programmatorio conformato sul DEF e NADEF fa un po' ridere per certi versi poi per carità anche tra i comuni più piccoli ci sono capacità programmatorie non voglio assolutamente sminuirle però mediamente insomma il meccanismo programmatorio è molto legato al bilancio annuale e a meccanismi di proiezione semplificati insomma rispetto a e lo stesso DUP è un documento più semplificato con il DM 25 luglio viene data più enfasi alla programmazione ma con tutta una serie di varie ed eventuali di espressioni tentative no? se il DUP si è deliberato l'indicazione della giunta se è venuta l'indicazione della giunta ai fini della costruzione del cosiddetto bilancio tecnico da parte del responsabile finanziario e dei dirigenti in sostanza per nel tentativo di velocizzare l'istruttoria e di assicurare condizioni migliori per l'approvazione del bilancio nei tempi canonici del testo unico insomma non prorogati ora questo significa che non è che cambia non è che ci stanno dicendo che è cambiato qualcosa sulle caratteristiche e livelli di obbligatorietà e tempi dell'approvazione del DUP è chiaro che in un'ottica di programmazione che appunto un po' scimmiotta il meccanismo nazionale e così via sarebbe opportuno che il responsabile finanziario tornato dalle ferie o nel corso delle ferie disponesse di un indirizzo della giunta di un documento ovviamente perché altrimenti questo bilancio tecnico si appiattisce su un documento davvero tecnico che poi ha più difficoltà insomma a diventare quel documento politico fondamentale della comunità locale non del sindaco della maggioranza del consiglio comunale che è il bilancio una delle critiche insomma che noi facciamo a questa normazione dei tempi intermedi questa enfasi su un bilancio tecnico che già prevede tagli contro tagli equilibri provvisori e così via è proprio il fatto che diciamo mortifica il processo che necessariamente poi deve essere e deve diventare un processo politico di approvazione appunto di cose da fare insomma sul bilancio e non meramente equilibri di livello tecnico l'altra cosa che volevo dire sulle sanzioni degli obietti di servizio in realtà l'articolo 83 che è quello che modifica la disciplina del fondo di solidarietà comunale modifica fin d'ora cioè da oggi e senza decorrenze future abolendo la sanzione di recupero delle somme quindi è una situazione un po' strana nel senso che i due articoli sono fatti per formare un meccanismo separato e poi di nuovo convergente di fondo di solidarietà comunale depurato dai fondi speciali e fondo speciale che appunto raccoglie i fondi speciali questo è lo scopo a decorrere dal 25 ma le norme che modificano il funzionamento attuale del fondo di solidarietà comunale e quindi anche la possibilità di applicare sanzioni visto che vengono abolite queste norme sulla possibilità di applicare sanzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi sono norme immediatamente attive e per conto mio attive anche per il passato perché nessuno ha mai combinato fattualmente le sanzioni se non in un caso molto marginale per pochissimi comuni e per pochi denari del 2021 sul sociale questo è l'unico atto che ricordo almeno lato commissione tecnica ora non saprei citare l'eventuale decreto del ministero dell'interno che poi è l'ente procedente l'amministrazione procedente per l'applicazione concreta delle sanzioni quindi a mio parere le sanzioni attraverso il recupero come sanzione il recupero delle somme per mancato adempimento l'obiettivo di servizio è già decaduta decadrà già al primo gennaio 2024 e quindi discuteremo su come fare chiaramente sono somme che vanno vincolate non è che rimangono nel bilancio pur non avendo raggiunto quegli obiettivi cioè la finalità rimane e questo corrisponde al mantenimento nel tempo del vincolo stabilito dalla legge non è che se non viene utilizzato il vincolo decade insomma questo dovrebbe essere scritto da qualche parte questo non sta scritto davvero da nessuna parte però ecco non c'è il recupero delle somme dunque noi in questo momento non stiamo prevedendo a proposito di una richiesta del Comune Falconara Marittima che insomma sulla questione del debito ha proposto insomma in diverse occasioni emendamenti e norme non stiamo prevedendo la possibilità di prorogare cioè di prorogare di riprendere nel 24 perché poi sono azioni singolari quelle della sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui non è che sono norme continuative quindi non stiamo immaginando la ripetizione nel 24 della sospensione delle quote capitali dei mutui non lo stiamo facendo perché si tratta comunque insomma di norme di carattere straordinario c'è bisogno di una certa convergenza tra cassa depositi e prestiti e banche anche perché normalmente insomma cerchiamo abbiamo cercato sia nel 2020 che nel 2022 di avere un atteggiamento concorde dei cassa depositi e prestiti e delle banche ordinari istituti finanziari ordinari per fare in modo che anche quella minoranza di debito che sta comunale che sta allocata su istituti finanziari privati ordinari comunque fosse compresa che è un interesse insomma di un numero relativamente ristretto di enti ma in alcuni casi molto incidenti cioè in alcuni casi i mutui bancari sono più importanti più numerosi incidenti dei mutui della cassa depositi e prestiti ci rifletteremo per capire se c'è lo spazio in primo luogo e se ci sono anche modalità alternative quindi diciamo non è tra gli emendamenti della legge di bilancio anche perché gli emendamenti possono essere soltanto di facilitazione non so se vi ricordate ma insomma nessuna legge sospende i mutui ma rende più facile la rinegoziazione con eventuale sospensione del pagamento questo è successo in tutte le tornate insomma poi è la cassa depositi e prestiti nella sua tra virgolette discrezionalità che procede al circolare così come le banche che procedono ad operare diciamo autonomamente spinte diciamo da norme di facilitazione io avrei finito se non ci sono previsione ah scusate poi comincia a venire tante domande dice ma ci sarà la proroga eccetera io dico la mia opinione personale la proroga io penso che ci sarà ma per motivi diciamo di carattere generale insomma no perché il nostro mondo è un mondo frastagliato le amministrazioni sono di fronte a problemi che sul territorio si articolano nei modi più disparati e quindi hanno di fronte difficoltà di diverso ordine caratura possibilità di soluzione e così via sta crescendo una domanda da parte di enti devo dire di tutte le latitudini non soltanto delle regioni in cui tradizionalmente c'è una tendenza allo spostamento dei termini e io ritengo che l'Anci farà un momento locale in questi giorni e andrà a fare una proposta immaginandola di massima condivisa insomma dal governo come inciderà in questo senso la circolare il decreto ministeriale 25 luglio che in qualche modo come diceva prima Stefania Dota insomma cerca un po' di mettere non dico la camicia di forza ma insomma qualche legaccio alle modalità con cui il governo può dire la sua in termini di facoltà di proroga o addirittura il Parlamento può dire la sua attraverso una legge sulle proroghe dei bilanci questo è relativamente un punto interrogativo ma il mio personale avviso di nuovo anche nel merito è che se un decreto ex comma 1 articolo 151 Tuel o una legge ex la sua potestà autoritativa perché non ha bisogno di tanti riferimenti nemmeno motivazionali dice i bilanci degli enti locali hanno come nuovo termine faccio un'ipotesi il 28 febbraio non c'è decreto ministeriale che tenga in termini di possibilità o obbligo di motivazione speciale questa è la mia personale opinione non prendetela come una nota di dottrina però obiettivamente insomma o è la norma primaria o la norma secondaria nobilitata dalla norma di codice come il decreto del ministero del ministro dell'interno che dice la proroga la fanno soltanto i comuni che stanno a questa latitudine in queste condizioni con questi eventi eccetera oppure la proroga generalizzata non ha bisogno di nessuna giustificazione da parte degli enti ogni cosa a suo tempo ne parleremo ulteriormente noi già lo riteniamo diciamo ma comunque ne parleremo nel momento in cui questo la proroga si verificherà e qualcuno osserverà su questo obbligo motivazionale autocoscienziale l'ente si guarda e dice ah sì in effetti io posso considerarmi in condizioni di difficoltà oppure no devo assolutamente fare il bilancio entro il 31 dicembre perché non sono in quelle condizioni ecco questa eventualità qua mi pare talmente paradossale che verrà spazzata un po' via dal proseguo degli eventi sì sì questo è quello che pensiamo un po' tutti ed è quello che abbiamo chiesto comunque in sede tecnica al MEF e al Ministero dell'Interno noi crediamo che il DM 25 luglio pubblicato appunto il 4 agosto del 2023 sia l'esivo delle prerogative sia del Ministero dell'Interno che appunto dell'autonomia regolamentare dei comuni quindi vi aggiorneremo perché su questo sicuramente ci sarà da diciamo un ritorno in sede politica della conferenza Stato-Città nel frattempo vi confermo appunto quanto diceva il dottor Ferri ci stiamo riflettendo sulla richiesta di proroga dei bilanci poi a quel punto una volta avuto il decreto vedremo se nella sostanza cambierà qualcosa rispetto appunto all'attuazione del decreto ministeriale sulla programmazione dei bilanci non ci sono ulteriori domande vi ringraziamo tutti siete circa 300 ancora quindi vi ringraziamo di essere rimasti collegati finora speriamo di avervi dato tutte le informazioni utili sul sito a breve ci sarà oltre che la registrazione anche tutte le slide e i documenti di questo webinar trovate già pubblicata la prima nota sintetica di lettura della legge di bilancio e a brevissimo perché i termini scadono domani anche le proposte emendative che Anci manderà in Parlamento alla legge di bilancio e i cui contenuti abbiamo in maniera sintetica esposto in questa giornata grazie a tutti e buon lavoro grazie a tutti